Dopo aver sudato, sbuffato, lottato e sgomitato per chiudere il girone di andata in posizioni di classifica soddisfacenti, di certo per l'Avellino e la Casertana in zona play-off rispettivamente a quota 26 e 25 punti, non di meno per Paganese e Cavese in zona salvezza con 24 e 22, per le campane protagoniste nel girone C di Serie C è il momento di sdrammatizzare, brindare e sorridere. E così, ecco la sosta ai tempi dei social, in rigoroso ordine di classifica, i calciatori bianco-verdi si sono ritrovati a recitare battute nel proprio dialetto o nella lingua d'origine, magari ripetendo qualche ciacca tra le risate generali, perché fare l'attore al massimo sarà capitato in campo per qualche simulazione, ma mai davanti a una telecamera, con un look decisamente buffo, trasformati in elfi danzanti, quelli azzurro stellati, in un balletto sfrenato realizzato con una delle tante app che spopolano sugli smartphone e sul web, risate ed allegria contagiosa pure nello spogliatoio dei rosso-blu, prima di un cin cin finale per augurarsi il meglio. E fare gruppo in un mondo che troppo spesso si prende troppo sul serio e la ripetizione di parole sarà perdonata, ma che in questi momenti si ricorda ciò che dovrebbe essere, l'universo di un gioco bellissimo e affascinante, metafora della vita, che andrebbe vissuto proprio con la leggerezza e l'allegria di questi video che riconciliano con l'aspetto più ludico e lontano dal mero business, a cui il calcio non può e non deve rassegnarsi a ridursi.